Steccato al Palafiera l'obiettivo continuità, l'Ital Service Pesaro è costretta a rimettere nel mirino l'obiettivo riscatto. Ad una settimana dall'indigesta sconfitta interna col Ciampino Agniene per 3-4, la squadra di Coccolini vola in Sicilia per la trasferta più lunga della stagione in casa della Meta Catania. Fischio d'inizio previsto per venerdì 25 novembre alle 20.30. Ai piedi dell'Etna arriva un Ital Service che deve metabolizzare una sconfitta urticante, perché al Palafiera venerdì scorso ha girato tutto storto, con i gol di Ruan Alflane e Pires a illudere spedendo Pesaro sul 2-0 per poi subire la rimonta laziale sul 2-4 fino al Vano, tentativo di rimonta portato dal gol di De Oliveira ad un minuto dal termine che ha fissato il punteggio sul 3-4 finale. Un risultato che porta ora l'Ital Service a Catania con una classifica complicata, con 8 punti racimolati in 9 giornate dalle quali si sono spremute appena due vittorie. A Catania, con l'ex Duda Dalcin, si cercherà il riscatto in un contesto caldo. Servirà infatti una grande Ital Service per inseguire una vittoria che riporti soddisfazione a Pesaro e magari riduca il gap con la stessa Catania che attualmente 13 punti in classifica. Umore molto diverso per l'Ital Service Loreto Basket che nel turno scorso ha stravinto il derby battendo l'Urbania 94-67 al palla Flaminia. È la settima vittoria su sette partite per la squadra di coach Stefano Foglietti che si gode il primato solitario nonostante abbia già scontato il turno di riposo. Un percorso netto che ora andrà messo alla prova dell'ostica trasferta di Ascoli Piceno. Sabato alle 18.30 sfida all'Ascoli Basket in salute e reduce da due vittorie di fila.